benvenuti per un altro livello di brave e alla ricerca di spirito danzante eravamo rimasti che brave doveva cavalcare l'acqua se ti sbrighi perfetto vola sopra la roccia e mi cerca per raccoglierne una ok e apre e aprovo ci ha capito che stiamo andando ecco ah giusto come si scende a questo coso l'energia che protegge il pezzo del totem può essere manata sul distrutto di tutte quelle sceltre le volte che lo dipendono come una cosa dove strafferare un masso con le artiglie dell'acqua il problema è che non so dove trovare le rocce assi assi vola vola ah no adesso ho capito vado vado assi super saiyan ok ok non sto per spattere ok 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 Ma dove cacchio sono le pietre? Super Saiyan! Muori Ok Ok Ma Dov'è il corso dell'aquila? Ecco Spirito d'aquila! No! Aia! Aia! Ok mi sono fatto un... Ah ecco dov'era! Posso fare il canone? A fiamme? No! Aia! Spirito d'aquila! Perché sappiamo già... Ah ecco! Ti eri nascosto Ok Ma... Ci opprendiamo in quel posto... Ok... Ok... Addio sei morto... Che prenotto trago per... Vabbè... Non ho detto... Comunque lo sapevo già... Ah per scendere l'aquila... Ah no... Ho sbagliato... Ho sbagliato come un idiota... Spirito d'aquila... Eh ma... Cicco! O che ci abbiamo fatto? Sgancialo! O che prima statua è andata? Ma dove si prendono le voci? Ah... No... Vola... Eccole... No sono un idiota all'acubo! Non è che non si sbatte... Lo... Non è che sta... Ehi... No... No... Non... Non è che si pentiva! o che quelli sono no ho detto di scendere salve ragazzi potete posso spaccarvi la faccia ho detto ecco spesa ian ecco aspetto un momento lo vedete anche voi ah no mi sembrava strano scusate ma la parra ragione si era mimetizzata con il terreno sembrava che avessi finito l'energia mia ma che prendi a prendilo vabbè non dico dove te lo devi prendere per non diventare volgari di salto e se lo deve prendere ho capito dove a dove se lo può prendere ok ok adesso Adesso andiamo a prenderlo... ok Ripetiamo... Non lo prende, lo devi prendere il masso, ho saltato, mi sto devastando, mi sto devastando, prendilo, prendilo, nooo, si stiamo finendo la vita, nooo, si stiamo finendo la vita, questo non va bene, ok, così ritorniamo con tutta la vita, ah no, pensavo che l'avrò preso, non buttare via la roccia, perfetto, l'abbiamo fatta dalla cavolata, però non devi cedere, e torretta, a noi due, aia, 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 ok, mi stanno girando le palle, bene... ok... Ce n'è già un... Vabbè Dov'è? Ecco Non vorrei essere stretto lui Ok Anche tu morerai Seguirai tutti quelli che sono morti prima di te Cioè assassinati da me Ok E l'ultimo Ok L'energia si è fatta benedire Perfetto Si può volare più veloci? Invece... No Dobbiamo romperci le palle a... A Ok Ok Fatto Ok Ok Vai Stavolta Stavolta morirai Carogna La pagherai Muori Ok Sei morto Sono contento con tutto il cuore Prendilo Perfetto L'abbiamo trovato tutti e quattro E con questo possiamo riformare Possiamo formare il penne di Rocco su Freddy Ok Ok. E adesso se non erro c'è un enigma. No, me lo sono sognato. Però c'è questa aquella che ci vuole rubare il pezzo. Cosa stai aspettando? Muovete! Dobbiamo uccidere quel falco. E riprenderci le... Ok, ridaccelo e non ti succederà niente, manchelo. Dove scappi, vigliacco? Aspetta, però ho paura del tempo. Non nel senso che ho paura di invecchiare, ma ho paura che... Ah, allora c'è tempo. Meno male. Dicevo, ho paura di invecchiare, ma... Ho paura di... Che stia... Che rimanga poco tempo oppure si addirittura finito. Ok. Ti stiamo seguendo. Ok. Che ce la sto facendo? Cacchio. Ah, meno male. No. Non me la frega niente se ti fa male, basta che vuoli. Ma che presa in giro! L'ho rimessa di dove... Ah, no, nessun enigma. Ok. Il penetrato! Anzi, no, è penetrato! Svegliato! Svegliati! Non abbiamo tutto il giorno per te. Ti distrugge. Spirito, grazie. Sei tu? No! No, io sono brave. Ma sono alla ricerca di spirito danzante. Dov'è? Spirito. Brave. Brave. Non hai mai conosciuto la tua famiglia. Brave, ma... Tu sei figlio di spirito danzante. Infatti, super mega spoiler! Io figlio di spirito danzante. Solo... E lei è sua madre! Sì, è un antico. Per trovare... Devi trovare il suo amuleto. Amuleto? Tanto tempo fa venne scomposto in tre pezzi per poter essere meglio custodito. Se trovi i tre frammenti dell'amuleto, allora... Troverai spirito danzante. E quindi passeremo alla vita... Spirito danzante sia mio padre. Ascolta, breve. Devi raggiungere un vulcano lontano da qui. Vai in cerca di Amalok, l'intagliatore di Totem. Lui ti riferirà nella ricerca dei frammenti dell'amuleto. Ok. Avrei un portale magico per accorciare il tuo viaggio. Grazie! Infilarmi lì. Vorrei scherzare! Sbrigati, il giovane per me. Non posso prendere a questo portale molto annullo. Aspetta, mi sa che ho fatto un super spoiler, non va bene. Vabbè, comunque finisco l'altro livello di Brave e andare a cercare lo spirito danzante, quindi... Alla prossima.